Civil Week 2024 Trezzano sul Naviglio proprio di fronte alla chiesa di San Lorenzo Martire qui a Trezzano con lo vedete alle mie spalle ma insomma anche la felpa lo spiega bene Avis sezione di Trezzano sul Naviglio ho il piacere di essere qui con Laura, Giusi, William, Lucia un bel gruppo appunto della sezione Avis di Trezzano sul Naviglio che cosa avete pensato di fare appunto per questa Civil Week? Abbiamo fatto una donazione straordinaria abbiamo chiamato molto più donatori, siamo arrivati quasi a 33 donatori mi scuso per la voce ma sei un po' in cantina è così questo periodo, è così la primavera e niente abbiamo pensato in questo modo di risoddisfare anche all'incipit della Civil Week di questa volta la costruzione siamo noi un'attività quella locale che è molto importante insomma Avis è famosa a livello nazionale ma poi bisogna andare, adesso non dico casa per casa ma quasi i donatori vanno trovati sì esatto è fondamentale, noi facciamo oltre che diciamo promozione della raccolta di sangue facciamo anche parecchie attività di formazione per esempio già questo mercoledì saremo con un medico presso la scuola media di Trezzano e faremo due interventi, il medico spiegherà durante la lezione di scienze spiegherà di che cosa si tratta diciamo il sangue e poi spiegherà che cosa si tratta la donazione è vero che l'età dei ragazzini delle medie non possono ancora donare ma è fondamentale come dicevo iniziare fin da piccoli a sensibilizzare come dicevo siamo appunto davanti alla chiesa di San Lorenzo Martire che si vuole far sentire ovviamente quindi lasciamo le campane suonare ma poi continueremo a parlare qui da Trezzano su Naviglio con Avis grazie Grazie.